Maurizio Cerbo si parla di piano di tutela delle acque, qual è la vostra posizione di rifondazione? Il piano di tutela delle acque sostanzialmente è un piano di non tutela delle acque e da dove deriva questa situazione? Dalle scelte sbagliate fatte per anni dalla Regione, dai Comuni e dalle società di gestione del servizio idrico integrato. Ma quello che non possiamo assolutamente fare in una Regione che ha nella valorizzazione del turismo tra l'altro uno di quelli che dovrebbero essere i volani dell'economia che si possa pensare di rinviare ulteriormente una indirazionabile opera di risanamento nei nostri fiumi. Questo implica tra l'altro anche che la smettiamo di sfruttare in maniera indiscriminata i nostri corsi d'acqua con tante iniziative imprenditoriali o pseudotali perché di solito si avvantaggiano di incentivi pubblici che non tengono conto di ciò che effettivamente i nostri fiumi possono ancora sopportare. Per questo l'opposizione al piano è vitale e bisogna evitare che con superficialità la maggioranza lo faccia andare avanti. Io sono anche sorpreso del fatto che tutti cadano dal pero mentre è una questione che poniamo da tempo all'attenzione della politica regionale che è sul tema dimostrato di essere assolutamente impreparata.